Sono stati straordinari per la prestazione, difficilissimo perché incontravo una squadra molto forte, di grande qualità e con lo svantaggio iniziale era una partita ancora più complicata perché loro comunque si chiudevano e in ripartenza erano tecnici e veloci. Abbiamo rischiato su una seconda palla subito, dopo abbiamo fatto comunque un buon primo tempo, un ottimo primo tempo e il secondo tempo è stato anche con l'ingresso di Josip, di Palomino e poi sicuramente con la prestazione di tutti perché hanno martellato questa squadra e l'hanno sicuramente è poi superata proprio con forza, con qualità. E forse la Roma ad un certo punto non sapeva più da dove arrivassero i giocatori? Questo secondo me è anche frutto del primo tempo perché comunque quando giochi e martelli così arriva un certo punto che l'avversario può avere un calo, invece noi siamo cresciuti e probabilmente anche il loro calo è merito della nostra capacità di tenere quei ritmi. Quale gol le è piaciuto di più? Perché sono tutti e quattro belli. Sono bellissimi, per Josip sono contento ma è bellissimo il gol di Duvam e sono molto contento per Duvam. Lucio appena entrato ha fatto un gol straordinario, un gol di Gosens che ci ha portato in vantaggio ha cambiato tutto. Sono stati quattro gol bellissimi, di ottima fattura, su delle ottime aziende. Un tour de force non indifferente perché ricordiamolo, 33 giorni, 10 partite e contro queste grandi squadre, l'Atalanta lo è, affronta delle altre grandi squadre e insomma è venuta fuori l'Atalanta. Sì, però adesso giochiamo tutti lo stesso numero di partite. La Roma ha giocato come noi, il Bologna ha giocato oggi e così le altre partite, la Juventus che abbiamo incontrato a Fiorentina. Mentre prima giocavamo solo noi e ci capitava di incontrare la Sampdoria o il Verona che sono ottime squadre che erano fresche e avevano più energia di noi. Adesso se non altro le difficoltà sono uguali per tutti. Adesso il Bologna e poi si chiude il 2020. Sì, per molto poco, perché poi dopo ripartiamo subito con delle partite importanti. Intanto godiamoci questa vittoria perché è molto importante, perché noi adesso abbiamo incontrato praticamente tutte quelle di alta classifica, adesso incontreremo ancora il Sassuolo, tranne il Milan che incontreremo l'ultimo, però è giocato Juve, Inter, Lazio, Roma, Napoli. Va bene, la squadra c'è, cresce a identità, a forza, può giocare in tanti modi, può ruotare a dei... Adesso che recuperiamo Miranciuk ha fatto comunque bene anche in quei pochi minuti, Ilicic, Muriel, arriverà poi Pasalic, Malinoski ha fatto bene, due hanno fatto bene, siamo a posto. Mister, questa era l'ultima partita prima delle festività natalizie, che per tradizione, per quel che riguarda l'Atalanta, è il Christmas Match e c'è sempre stato questo grande abbraccio del pubblico alla sua squadra e quest'oggi invece no. Che dobbiamo fare? Non lo so. Hanno sofferto da casa e hanno esultato. Sopracciamo virtualmente tutti quanti, poi il Natale è veramente una festa che tutti sentono e doverlo passare così, speriamo che sia veramente questo 2020 che finisca in fretta.